Qui nella lista di Green Italia e Verdi Europei è un'alternativa positiva all'antipolitica e ai populismi di destra o di sinistra che siano ed è una proposta positiva per quanto riguarda la centralità della questione ecologica ed ecosociale ma anche della questione dell'unione politica a livello europeo nelle prossime elezioni. Per il Trentino Alto Adige sarete lei Marco Boato e Stefania Pintarelli. Abbiamo fatto una lista di 14 candidati con 10 donne e 4 uomini. Per il Trentino Alto Adige, come lei ha detto, sono i candidati Stefania Pintarelli che è la nuova generazione e io che sono un po' parte dell'esperienza storica dei Verdi e ci saranno tre capilista in questa lista. Una sarà Susi Bledi, conosciuta da molti per la trasmissione Turisti per caso, il secondo capolista sarò io e la terza capolista è un'altra donna, Luana Zamella, con qualche voce nazionale dei Verdi italiani. Stefania Pintarelli e io siamo in questo complementario, non solo perché donna e uomo ha perché di generazioni diverse, di storie e di culture anche in parte diverse e che con grande entusiasmo ci sono messe insieme.